ma ben trovati cari amici ma soprattutto cara amiche di total photoshop io sono max furia e in questa puntata ci concentriamo su un argomento che proprio non mi sta a cuore mi sta a gola o orecchie cervello dappertutto mi sta perché parliamo di rinominare come avete visto qua sopra il mio cozzone e i nostri scatti digitali rinominare perché lo ripeto e lo ripeterò finché avrò fiato quindi spero veramente tanto tanto a lungo una foto degna di questo nome non dovrebbe chiamarsi mai underscore vsc 181 punto qualche cosa nef cr2 jpeg eccetera eccetera una foto è un momento che voi avete scelto l'avete sottratto ad altri momenti componendolo in una maniera molto specifica quindi è una vostra espressione e senza farla troppo romantica una foto deve essere anche riconoscibile dal punto di vista delle quando guardiamo nelle cartelle del nostro computer come facciamo a sapere che cosa contiene quel quella quella foto che si chiama underscore dsc qualche cosa o img qualche cosa punto qualche cos'altro ebbene uno dei primi rudimenti che ci consente di fare questo distinguo si chiama proprio nome del file sembra una banalità ma sappiamo bene in tanti che non lo è sia che voi siate un professionista o un amatore il rinominare il file è un'operazione che a volte ci scappa perché sì ma tanto dopo lo faccio se intanto li metto tutti in quella nuova cartella sul desktop e così succede una serie di cose che abbiamo peraltro già visto all'interno del video corso organizzazione professionale delle foto con lightroom allora vediamo come possiamo scegliere di rinominare i file del dei nostri scatti andiamo sul modulo libreria di lightroom clicchiamo sulla voce importa e io a questo punto voglio importare le foto non tanto dalla fotocamera o da una memory card ma l'importo da un hard disk esterno e quando faccio questa operazione posso fare avere diverse scelte a disposizione se faccio semplicemente un aggiungi come lightroom mi propone vedete che nella colonna di destra ho poche possibilità posso gestirmi il file per quanto riguarda la generazione delle anteprime oppure applicare durante l'importazione un predefinito di sviluppo o un predefinito un modello di metadati che posso aver scelto se invece faccio un bel copia o uno sposta vedete che magicamente nella mia colonna di destra appare questa voce inerente a questa scheda che si chiama ridenominazione file ora ridenominando il file cioè rinominando il file io che cosa posso fare posso rinominare il file basandomi su quello che è il modello mentale mio più consono quello che mi assomiglia di più perché dico questo perché ci sono alcuni di noi che organizzano le foto per esempio in maniera estremamente metodica quasi maniacale raggruppandole per data non tanto per soggetto per significato per emozione quelle robe di pancia che appartengono a quelli un po più non so più poetici di noi no quel genere di fotografo organizza il proprio archivio fotografico basandosi sulle date oppure sulle sequenze di scatto oppure sulla tipologia di servizio che ha fatto magari ritratto still life eccetera 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 altri invece come me preferiscono dare un nome proprio alle foto magari indicando un numero di appartenenza quindi un numero sequenziale per dire ho scattato le foto alla nostra bella jennifer quindi sarà jennifer 1 jennifer 2 jennifer 3 jennifer 4 e via dicendo non vuol dire che sia il metodo migliore vuol dire che quello che assomiglia di più a me che per me risulta essere quello più semplice e infatti lightroom ci mette a disposizione diversi modelli vedete qua nella proprio sotto la voce di fianco alla voce modello abbiamo data nome file che vuol dire che se scelgo questa modalità o una un esempio che ho riportato qua sotto che mi dice 25 05 2015 jennifer luce laterale trattino 1 perché in realtà questi file sono già stati rinominati ma vediamo come possiamo rinominarli oppure posso utilizzare il nome file associato a un numero di sequenza che è quello che vi dicevo prima jennifer trattino luce laterale trattino 1 trattino 2 trattino 3 eccetera eccetera in questa maniera rinomino i miei scatti e so a che cosa appartengono a livello di soggetto e via dicendo posso anche semplicemente dargli un nome personale che sarà jennifer trattino l r che sta per luce laterale non lightroom oppure posso dare il nome al servizio fotografico utilizzare un numero del file originale oppure associarli una sequenza ma meglio ancora posso andare sulla voce modifica in modifica o il cosiddetto editor modello del nome file che cosa a che cosa mi serve mi serve per creare quella tipologia di nome file che serve o a me o se fate questo di mestiere intendete farlo di mestiere al mio cliente per cui potrebbe anche darsi che il cliente e non è raro neanche troppo strano mi chieda di nominare file rispetto a determinati modelli che magari sono nella sua di testa non necessariamente nella nostra ma che possono avere a che fare per esempio con la data con il servizio fotografico il tema del servizio fotografico e poi eventualmente altri dati che possono allungare sì di molto il nome del file ma per il vostro cliente o per voi possono diventare invece quell'elemento di riconoscibilità di classificazione più agevole quindi io qua per esempio posso semplicemente cancellare questo testo personalizzato le differenze faccio un inciso le differenze tra pc e mac esistono anche se il programma è lo stesso ma sono differenze di forma cioè di apparenza di queste finestre non tanto di sostanza allora io qua voglio mettere per esempio max furia shooting adesso metto delle cose assolutamente a caso e poi trattino e metterò non il nome file ma sceglierò per esempio un testo personalizzato ok mi posiziono qua tuc e questo diventa un campo generico quindi magari questo testo lo chiamerò con lo utilizzerò per dare un nome alla modella e magari qua scelgo invece di mettere il giorno la data esatta del giorno poi gli dirò la data del mese il numero del mese e il numero dell'anno magari con tutte le cifre risultato andiamo a scegliere questo tipo di impostazione personalizzata quindi abbiamo detto che nel testo personale inserirò per esempio il nome della modella e quindi l'esempio sarà max furia shooting jennifer data eccetera 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 questo tipo di modello ritorno su modifica me lo salvo facendo clic sul menu a scomparsa dei predefiniti salva impostazioni di questo predefinito e lo chiamo max underscore modelle per esempio ok quasi come se ne avessi un arm benissimo a questo punto dopo aver dato l'ok a tutta la procedura vedete che mi trovo tra i predefiniti proprio questo max modelle in modo tale che quando sceglierò questo predefinito non dovrò fare altro che inserire nel testo personalizzato il nome della modella o del modello a mio piacimento che sto col quale magari sto lavorando per questo tipo di shooting capite che quindi sono molte le alternative per rinominare un file fotografico un negativo digitale che andiamo a importare a inserire nel nostro catalogo di lightroom e quindi l'invito è quello di trovare il vostro quello più personale quello che vi assomiglia di più detto questo ancora una volta il buon max prima di salutarvi vi ricorda che potete seguirci in tutte le maniere possibili e immaginabili che ci mette a disposizione la tecnologia attraverso qualsiasi dispositivo smartphone tablet addirittura le tv di nuova generazione se avete voglio o il podcast che trovate su itunes con tutte le puntate sempre aggiornate della tutorial tv ma non solo potete anche registrarvi gratuitamente al sito per beneficiare di tutta una serie di opportunità di download di contenuti premium a condizioni veramente stravantaggiosissime solo unicamente per quelli che sono iscritti e detto questo il max come al solito vi augura tanti dei pensieri positivi che ci fanno bene buona luce buoni scatti buon rinomina file con il vostro modello preferito e ci vediamo alla prossima puntata